227 anni fa nacque il tricolore esattamente nel 1797 e noi nell'ora di musica cosa facciamo a scuola impariamo la canzone famosissima canzone la bandiera dei tre colori è una canzone non complicata da suonare alla tastiera la canzone parte dal do centrale quindi do centrale come si fa a individuare il do centrale molto facile il do centrale esattamente il do che sta al centro della tastiera sappiamo ormai tutti quanti che il do riusciamo a individuarlo grazie al raggruppamento per due e per tre dei tasti neri noi sappiamo benissimo ormai che il tasto bianco che precede i due neri è do anche questo due tasti neri sappiamo che questo è il do due tasti neri sappiamo questo sappiamo anche che il tasto bianco che precede i tre neri si chiama fa sappiamo anche oramai l'alfabeto musicale conosciamo l'alfabeto musicale do re mi fa so la si poi do re mi fa do re mi fa so la si poi da capo do re mi fa come potete notare le note sono si ripetono ciclicamente solo che a sinistra sono più gravi le note poi man mano che saliamo diventano sempre più acute allora altra informazione che dobbiamo conoscere bene che una volta che noi utilizziamo la tastiera le nostre dita non saranno più pollice indice medio anulare e mi e mignolo no le nostre dita si chiameranno con un numero il pollice è il numero uno indice numero due medio numero tre anulare numero quattro mignolo numero cinque quindi primo dito no secondo dito lo posizioniamo sul re il terzo dito lo posizioniamo sul mi e naturalmente anche il quarto sul fa e il quinto sul sol allora la canzone fa esattamente così facciamo prima lentamente inizia con una pausa di croma primo dito secondo dito terzo dito la cosa complicata qual è adesso che col pollice dobbiamo passare sotto il medio e andare sul fa e poi nuovamente posizioniamo le nostre belle dita ognuna ogni dito sul tasto successivo quindi fa sta qui poi abbiamo l'indice che sta sul sol abbiamo il medio va bene quindi poi ritorniamo dal capo passiamo da sotto poi col quarto dito facciamo e ci fermiamo qua ci fermiamo qua per ora vediamo un po chi riesce a farlo bene bene quindi stop ora vediamo un po' Grazie a tutti.